Buongiorno a tutti, oggi giovedì 2 luglio della tredicesima settimana del Tempo Ordinario. Siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 9, i versetti dall'1 all'8. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico, disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico Coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scrivi dissero fra sé, ostui vestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati? Oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora al paralitico. Prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini. Gran parte di questo brano si mette a girare attorno al fatto di vedere. C'è una fede all'inizio che si vede perché questi, concretamente attraverso i loro gesti, mostrano che portando quest'uomo da Gesù hanno ferma fiducia che lui gli possa guarire. Allo stesso modo, a un certo punto, Gesù è costretto a far vedere quello che è successo. Cioè, la guarigione di quest'uomo diventa il modo visibile con cui Gesù attesta il suo potere di guarire i cuori, di perdonare i peccati, di risanare ciò che c'è dentro all'uomo. che lo paralizza, lo blocca, e Gesù invece sblocca, libera, fa camminare di nuovo, fa tornare alla vera casa, che è quella del padre. Noi come possiamo leggere questa cosa? C'è sempre una dimensione visibile del nostro mondo interiore. Ciò che viviamo dentro non è disgiunto, non è separato da quello che vediamo. Il nostro corpo prende parte a questo. La nostra vita è concreta, è estremamente concreta. Lo spirito prende parte del corpo, lo rende partecipe delle sue dimensioni. Ciò che accade nel cuore è poi visibile attraverso gli occhi, lo sguardo, il volto, le mani, i gesti, il modo con cui si vive. Per questo c'è una fede che chiede di essere visibile, non ostentata, ma che traspare. Perciò scelte concrete, modi concreti di vita. Piccoli passi reali, in cui lentamente si dice nei fatti al Signore che mi sto affidando a Lui, mi sto consegnando a Lui. Passa attraverso la Chiesa, passa attraverso la comunione del corpo di Cristo, passa attraverso anche le mediazioni che il Signore ci dà. E allo stesso modo ci sono dei modi molto concreti con cui il Signore si fa presente e vicino per risanarci, per guarirci. La voce di una persona cara, le persone che abbiamo attorno che ci spronano di nuovo al bene. Ci sono tanti piccoli modi in cui si vede ciò che è l'amore che è il Signore per noi. E allora chiediamo al Signore questo sguardo limpido che permette di vedere e riconoscere il suo amore per noi. Che appunto, come queste folle che vedono, a un certo punto sono intimorite perché sconvolte dalla grandezza di quello che fa il Signore, ma allo stesso tempo rendono gloria a Dio perché ci dona davvero tanto, qualcosa di grande e di straordinario dentro alla nostra vita. La sua stessa presenza e il suo figlio Gesù che risana e guarisce anche i nostri cuori.